Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video Oggi per la seconda settimana di fila e credo che in realtà tutte le domeniche sarà così Ecco un nuovo capitolo di lì, siete pronti a vedere che cosa succederà? Sigla e via! Premo il pulsante Il nostro salvataggio 2 Continua Sì, tanti faccio Sì, tanti faccio Questo pezzettino l'avevamo già visto alla fine dello scorso video Andiamo! Devo andare in bagno Cerchiamo il bagno Eccolo E ora? Lavandina Usiamo No! Ah, devo scattare la foto alla farfalla Ma sia mio vicino Le scatpa, scusate La scatpa, scusate La scatpa, scusate La scatpa, scusate La scatpa, scatpa, scatpa La scatpa, scatpa La scatpa, scatpa Mi. Mi stavo nel bambino. E' stato fatto a quella pazzesca. Mi prendo la mano, e poi sono tornata qui. Ho già sentito questa lezione. Ora Kate stia ancora riuscita. E se la telefono di Victoria ringe, questo è vero. oh shit can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in black and white ok if I'm crazy I might as well go all the way can I actually reverse time why Arvis because of her images of hobo's faces you feel like totally haunted by the I did it can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in black and white anybody Bueller Max don't freak out not yet there you go Victoria why Arvis because of her images of hopeless faces when I took my selfie Jefferson asked me a question if he does again I'll notice this for real a selfie a dumb word for a wonderful photographic tradition and Max has a gift I know I'm not dreaming this it's real I can tell so I can go back in time selfie expression what if that girl isn't dead yet can I save her I need to go to the bathroom quickly and check it out now Max since you've captured our interest and clearly want to join the conversation can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits they're going to go to the bathroom I'm sorry but I really have to use the bathroom nice try Max but you're not gonna go that easy we can talk more after class is there anybody here who knows their story Jefferson wants to keep me after class and I need time to save that girl è una cosa importante Mr. Jefferson la odio Victoria what if I rewind again and give him the right answer is there any better that's what I have to do since you've captured our interest and clearly want to join the conversation can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits Devo dare il nome giusto, quindi Y. Sì, ma io ora dovrei andare in bagno. Devo andare in bagno ora. Però adesso mi fermo ancora, come l'altra volta. Dai Max, veloce. Non lo sta evitando e non sono sicura di averne uno. Non lo sta evitando. Non lo sta evitando, solo... Spendendo il tempo? Spendendo l'elusivo momento? Esatto. Max, non aspetti per l'ora. John Lennon ha detto che la vita è quello che succede quando sei bussato a fare altre planche. Vai ora, non mi lascia stoppare. Prima e l'ultima serie, volgendo il tempo. Vabbè, adesso non voglio... Ah, per forza? Ma perché? Vabbè, non mi lascia, non mi lascia, non mi lascia, non mi lascia. Vai, prima con la sua frase. Bene, andiamoci, devo andare in bagno a salvare la ragazza. Dai, dai, tieni più il territorio e trova anche il velocemento. Vai, dai, corri, corri. Mi sono spaventata. Vai, allora. Mi sono lavata le mani. Sì, l'ha fatto. L'ho fatto, l'ho fatto. La carta è volata lì. No. 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 Moriterio, moriterio. ecco, 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 ecco ah, che spazio si managgia più il martello? ah, ce l'ho già il martello raga, che ansia che mi mettono queste cose? lo s'è? no, questo non s'èittä non verbale ma l'ho già so non verbale nonee non è Hey, do you hear that fire alarm? That means you should be outside. I had to use the bathroom. Girls always use that excuse. Excuse for what? For whatever you're up to. Your face is covered in guilt. The alarm tripped me out. Then trip on out of here, missy. Or are you hiding something? Huh? Thank you, Mr. Madsen. The situation is under control. There's no emergency here. Leave Miss Caulfield alone and please turn off that alarm since that's your job. Professori carini, presidi carini. A me non è mai successo. Bene, ora possiamo andarcene da questa scuola? No. Al bagno degli uomini. Una bacheca. Ah, vedi, dovevo uscire davvero. Ehm, da dove si esce? Ah, di qua. Allora, o esco o torno qui? Allora, qui siete voi a scegliere. Cosa faccio? Denuncio Nathan o nascondo la verità? Commentate qua sotto con la vostra risposta. Mi raccomando, io vi mando un grosso bacio. E ci vediamo al prossimo video! Aplausos Aplausos Aplausos